Amici Ciao sound alert, ciao stream elements, benvenuti in questa mega live serale Gran Turismo 7 La Giulia, amica mia, ciao Giulia, proviamo sempre l'audio per vedere se va tutto bene Condividiamo la live, quanto tempo infatti, 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 tantissimo tempo, prima della grigliata Si sente benissimo, perfetto, l'importante è che riusciamo a sentirci, a dialogare, così si fanno delle gran belle serate Andiamo a comprare la ciaparaz, andiamo a comprare la ciaparaz Sto condividendo la live, ragazzi, sto facendo un po' di farmettino, una garettina veloce Ciao amici Bella Eccoci qua, condiviso la ciaparaz Amico mio, mi manca solo poche auto prima di prenderle completamente tutte Quindi andiamo a comprare la ciaparaz La ciaparaz Stream elements, grande stream elements Salutiamo il nostro amico stream element Che è sempre qui con noi Le ciapette Di tutto e di più, ragazzi Non la chiameremo mai con la sua Con il suo vero nome, la ciaparaz Che sembra Qualcosa dei Simpson, mi sembra C'era qualcuno che si chiamava così La tipa Non me lo ricordo Capra Capra palvo C'era qualcuno E si chiamava così In qualche Simpson era, eh? Signora capra Capra palo Vabbè, insomma, povera macchina Ha fatto anche un po' la storia Che sembrava un frigorifero E comunque viaggiava, eh? Perché penso che quella macchina lì ha fatto un po' Hai finito la livrea, grande Allora, finita questa, andiamo subito a vedere la livrea, eh? La livrea del nostro amico Scharder Grande, grande Scharder E poi facciamo qualche garetta Io Carla non so se c'è Il letto, sì, il lettino Lettino, frigorifero Un po' tutto tranne una macchina Ragazzi Non mi trovo più con la pedaliera e il volante Dopo quasi 70 giri Oggi a Formula 1 Cambiare gioco è veramente È quasi un cambiamento epocale Poi voglio farvi vedere Il replay mitico che ho fatto stamattina Non ci credevo neanche io Infatti ho fatto un video che ho condiviso Sulla... Allora, ragazzi Devo riabituarmi dopo il Formula 1 Poi ci sono le zanzare Davvero Sembra una stupidata, eh? Quattro di spalle sul letto Io sto a quattro di spalle sul letto Bravo, bravo, bravo Ciao amici amiche di Twitch Benvenuti, benvenute, eh Oh, frack Grande amico mio Oh, era ora che tornavi Era ora, ci sei mancato Frack Oggi abbiamo fatto una mega live Mega Mega Corsa Al Formula 1 2021 Ha vinto l'amico Charles Dopo una gara frastagliata Incredibile Una gara incredibile Vero Charles Abbiamo fatto una gara E poi abbiamo anche corso online Ed è stato un po' un bordello Con due nuovi amici Che si sono iscritti oggi Bello, bello È stata proprio una bella giornata di live Una bella gara di Formula 1 Mamma mia ragazzi Dopo Si, si, si Bella gara, belle gare Tutte e due Dopo La velocità delle Formula 1 Ragazzi Mi sembra di essere fermo Con E questa viaggia, eh Con questa BMW Si, si, dai È stata bella Divertente Anche la chat è stata veramente bella Movimentata A volte mi arrivano i messaggi Quella dell'altra sera Giulia Sono Avete Scritto 470 messaggi L'altra sera Oggi non lo so Perché non mi è arrivato il report Abbiamo fatto Azerbaijan Quella dove erano oggi Io adesso Da adesso in poi Tutte le domeniche Che ci sarà la gara reale Di Formula 1 La faccio Ha spaccato il muso Allora C'è da dire la verità La prima curva L'ho toccato dentro un attimino Poi Quando ha spaccato il musetto Ci ha pensato Scharder A far tutto Due volte Due musetti E Scharder è molto diverso Il Formula 1 Da Da Esatto Dopo 51 giri Il piedino Infatti vedi che anche qua corro senza aiuti Curve e robe del genere Perché ormai conosco le macchine Conosco il gioco Da tanto tempo Che non ho bisogno di nessun tipo di aiuto Dove frenare Come fare Come fare La purtroppo Ho ancora bisogno Del Dell'aiuto di trazione Perché se no Tutte le volte che acceleri Ti fai sei giri Su te stesso E l'aiuto Della Della Segnalazione Del Del 3D Delle curve Dove frenare Ecco perché Non Non ci ho ancora Preso bene Poi magari quando Quaglia di Formula 1 No dai Si sono scassati tutte e due Ma che palle Ciao mio amore Eh amore Sono già le 9 Piccola mia Ciao mio amore Perché Piange sciarderino Perché Si è spaccato due volte Il musettino Ah Della Spengo che sono in macchina Mi viene a mano di testa Ah 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 Dai Dai Accendi dopo quando arrivi Ciao Carla Grazie Ciao Frank A dopo A dopo Ciao Giulie Ho sentito la musica E spacca di brutto Puro Summer Summer is Summer Baby Si di nuovo Pure All'alpha C'è tutti i motori Ferrari Ciao Loki Ciao Loki Da Ken Block Dei poveros Ciao ragazzi Bella lì Ken Block E' il top Dei E' il top E' il top Che è il block Ciao Carla Bellissimo Bellissimo Per il solito Amore Coccoline C'è dell'acqua fria Ciao Loki Oppure c'è quella Cosa di Cosentino La musica ci bannano il canale Balla senza Mozzicalo sul naso Mi è venuto il brividino Giulie Shard Mozzicalo sul naso Noi senti nel po' Noi senti nel po' Non l'avvicinaste così Ahahahah Sì Grazie a cazzo Ma ti vede bruttissimo il colore Non è così brutto Aspetta Piccolino Ahahahah Pezzolterie che sono Ahahahah E' che mia moglie dovrebbe prendere il bere Belle 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 Sì Sono sui arancioni Belle Belle Amore Frizzantino E va via Dopo Sono morto Di Di Collega Non sa Di essere live Sì Sì Lo sa Lo sa Ahahahah Io sto correndo tranquillo Non è colpa mia Ciao amici e amiche di Twitch Ben arrivati Buona domenica Caspita ragazzi Stavo dicendo sabato Invece domani si va già a lavorare Che rottura di scatole E' già passato il sabato Alla Ah Ho preso dentro l'angolino Mi hai fatto ridere Sardo Dai che finiamo Sta sardegniucola E andiamo a comprare la lavatrice Per la lavatriccia E' completamente diverso Diglielo Ahahahah Però qui Il volante E' duro A Differenza Del Di quell'altro Che non usa Di Formula 1 2021 Stade boni Stade boni Raga Stade boni Invece il Formula 1 Sembra di avere Un volante molle Che non ci sia Come se è finto Eeeh Che pacco Non dirlo a me Peggy 18 E infatti Se tu vedi le mie live Sono non adatte ai bambini Non adattibus As bambinas Sì infatti Non parliamo di lavoro Raga Perché Siamo ancora Domenica sera Grande Io gradirei Fare un circuito Nuovo Sharder Stasera Magari il contrario Magari lo facciamo con l'audi L'audi Sharder L'hai modificata Come ho fatto nel video Ragazzi se volete Giulio mi metti Trampillizzai Brava Giulio Brava C'è un modo Che avete voi Per trampillizzarci Che Che è molto Pratico E E Molto Interessante Io la farei Con l'audi Poi io Proverei Te l'ho già detto Ho detto che c'è un modo Che voi donne Avete per tranquillizzare Gli uomini C'è un modo Che non posso dire Allora Sharderino Facciamo Io direi di fare Anche una bella Livrea Ciao amici e amiche di Twizzi Grandissimi Amici di Gran Turismo Poi soprattutto Dele gare Dele gare Magari con la Miura Cosa ne pensi Sharder Una macchina un po' vecchia Che si fa fatica A tenere strada Che magari Quando poi andiamo a correre È anche divertente Non sono solo queste macchine Che tengono la strada Perfettamente Che sono Dei bolidi E si viaggia Veramente forte Fare anche Una Trovare una macchina Vecchia Comunque bella Perché la Miura Era tanta roba Una volta E fare le livree Anche sui Non lo so Le livree Però stavolta Marco Drums Games Sharder Design Nei Bragali TV Cioè Le nostre livree Quelle belle E poi magari Facciamo anche diventare Della Della Accademia Ma non Non proprio per l'Academy Una Miura Ecco Marco Va a 200.000 Non lo so Pensavo una roba del genere Sharder Tu che non ne pensi Ciao amici amiche di Twitch Benvenuti Dai ragazzi Un follower Siamo a 580 Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al nostro canale Ragazzi Dai 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 ragazze Ok Eccolo qua Su Twitch Non ce l'ho ancora La Ferrari Quell'altra volta Che hai visto La Miura Costa poco C'è C'è In offerta Adesso Al 3x2 All'Eurospir No Non si può dire Pubblicità Allora Io ringrazio sempre Amazon E Twitch Che ci permette Di essere In live Con voi Ragazzi Ciao amici amiche Eh si Loki Eh si Loki Ne mancano ancora 21 21 21 Non è semplice Non è veloce Ma ce la facciamo Ce la facciamo Esatto esatto No publicité Legalité Fraternité E Gualité La publicité Se paga Se paga Devono pagarmi Per fare la publicité Eh E quale Ferrari Dopo me la fai vedere Sharder Quando adesso corriamo online Mi fai vedere Quali Ferrari Vuoi fare E se prendiamo Il frigor Tutti Sharder Che non costa tanto Ti fai due volte La Sardegna Te lo compri anche tu Il frigorino La Ciapparat Ciao amici Allora andiamo a comprare La Ciapprapal Ciapprapal O una roba del genere Non so come si pronuncia La Ciapparat Lo pronunciamo noi Andiamo a comprarci La Ciapparat Che Signori e signore Non mancano molte Macchine Ciappet La Ciappet Dice la Giulie Non mancano molte macchine Ad averle tutte Ad avere tutte le macchine Penso me ne mancano Sono meno di 20 Credo Avevo fatto il conto L'altro giorno in live Meno di 20 macchine E abbiamo tutte 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 le macchine Tutte le macchine del gioco Amici miei La Ciapparat No c'era quella Quella rosa lì Le bollicine Rosè 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 Beviamo Rosè Perché Lo sprizzo L'ha finito Tutto io Ragazzi Allora Buona domenica Sera a tutti E a tutte Buon Mitico e mitica A tutti La Ciapparat Sarebbe divertente La Ciapparat Comunque Fammi vedere Quando la compro adesso Amico Shard Se la Ciapparat Vale la pena Perché anche Da Da fare la livrea La Ciapparat Ci sta Ha un sacco di posto Oh mio amor Oh mio amor Sì Absolutely Hai preso tutto Allora ragazzi Buon Rosè a tutti Eccoti qua Mio amor Vieni patata Mi bannano Mi vogliono bannare Io canto cose non da copyright Allora ragazzi Sta cercando Fazzolette Che mi fregano sempre I miei figli I fazzoletti Sono una cosa Che spariscono E abbiamo Il ventilatore Sul 2 Ce l'ho lasciato Sul 2 Non Sul Ecco Una bella Svanata Che l'avete sentito Tutti ragazzi Vi ho scassato I Dispositivi Elettronici Dai 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 Baby Le ciappette Ciao amici Amiche di Twitch Saluta tu Mio amor Sì lo so Però devi Salutare A voce Ti sentono Che auto La vuoi Allora Loki La livreuccia Su che auto La vuoi Quella di Loki La sta facendo Pian pianino La tua Che auto Vuoi Preparazione Sì Non so Quale Quale Ah Vuole la Toyota La Toyota La Toyota E' quella che T'avevo detto io Charder Di fare le Toyota No la Porsche Tu avevi la Toyota Io la Porsche Quella lì Di fare le livree Proprio Singole Di Marco Drums Di Cabragali E te Charder Me la puoi fare Su Arancione E viola Allora Ho una richiesta La Porsche Quella ibrida Arancione Viola Per Bragali C'è Una roba così Poi vabbè Metti gli altri colori Però sull'arancione E viola Arancione E viola In prevalenza Ok Grande Hai capito La Porsche Ce l'hai tu la Porsche Charder O avevi comprato La Toyota Se no Dopo andiamo a vedere Perché se non ce l'hai Costa 3 milioni Non riesci a comprarla Se non farvi di brutto Ciao ragazzi Ragazze Basta mi amore Se no va tutto in loop Ciao mici Dai Un follower Ragazzi Voglio che stasera Arriviamo a 580 Chi vuole essere Il 580 Di Marco Dranski Vi festeggiamo Scrivete il chat Dai 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 amici Oggi un sacco di amici Si sono uniti a noi E abbiamo immediatamente Poi fatto una lobby Per giocare insieme Io Io sono 570 La novesima Perché L'ha successo un disguido Che se mia moglie si incazza Mi toglie il follower Ragazzi Pensate come sono messo Se gli faccio Girai ball Mi toglie il follower Farmela prendo Ah grande Perché gli piaceva quella Sinceramente La Porsche A parte che possiamo fargli provare Anche la Toyota Charder Gli facciamo provare la Toyota Adesso gioca Gioca Carlo Perché io ragazzi Mi sono fatto Due ore oggi E passa di Formula 1 Quindi anche se La mia mogliattina Fa un paio di partitelle E anche tre Mi fa solo che è un piacere Ragazzi Fai benissimo Sii Si mio amor Ma che è facile Se è una cosa Fu compito ad ora Allora Allora Charder Si può Incominciare Prima di tutto Quando finisco Andiamo a comprare La Chaparazzi La proviamo Vado a vedere Le tue livree E poi Si fa una bella lobby Con Carla In un circuito Che conosce Carla Così prova La Toyota Dragon Trail Si può fare Sei giri Così se per caso Non viene a sbagliare E non è troppo lunga Perché a Carla Non gli piace Troppo lunga E certo E certo Charder Corre con te Marco Drums Games Come ha fatto a scrivere Marco Drums Games Che sono qui Hai scritto tu? Ah ok Che cazzo Scrivo col pensiero Sì signor Macchina e pilota La robbie è un po' Ragazzi Ci sarebbe da mandargli un messaggio Eh Sì Sopra dove c'è La posta Questa? No sopra dove c'è il mio Loghino blu Ok di fianco Di fianco c'è la posta Quello Quello Ecco Lì dovresti Il mio twitch No allora no scusami Non è la posta È quello Prima della posta Quello dove c'è Il minarino Dovrebbe esserci già la robbie Che avevo già parlato io Eccolo lì robbie Scrivi Ciao amica mia Come stai Non ti vedo in live Scrivi qualcosa Sì esatto Ah col pensiero Gli hai scritto qualcosa Dai amore fai un pensiero Se non vuoi c'è male di scherzo Lo faccio io E' la turca Ciao amiche amiche Benvenuti e benvenute Iscrivetevi al canale Dai se volete essere Cinquecentottantesimi Ottantesimi In generale O in tantesima O in tantesimo Terespettatore Di Marco Drums Games Channel Dai ragazzi Facciamo festa Brindiamo con Le bollicine Eh si eh Guarda Grande Giulio Questi sono tutti i miei Link Per Youtube Per Twitch Che vabbè Da Twitch Siamo in Twitch E per comprare Cappellini Magliette Portatazze Tazze E tante tante Gadget C'è anche un cappello C'è anche un cappello C'è anche un cappello di Marco risponde C'è anche un cappello Di tessuto Di tessuto Con logo Fatto a tessuto Eh ragazzi Il grande drago Questa sera Arrabbiato Merchandiser In italiano Comprate 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 Che caldo Che fa No No Nel massimo Non si sente più La live È il 2 Provo a aumentarlo Un po' Vediamo se fa Troppo rumore Ragazzi Adesso Carlo Ha aumentato Un pelino Il ventilatore Se fa troppo rumore Ditelo Eh Sentiamo cosa dicono Mi sta spostando Anche il microfono Guarda Figa Un'aria Della madonna Ma ragazzi Se Dite Se sentite Troppo bordello Comprate A vici Stiamo Alla giro E' grande Ok ragazzi Abbiamo fatto 15 giri Anche Con la mitica Mercedes McLaren BMW F1 GR3 GTR Scusate Andiamo a comprare Si sente poco Perfetto Grazie Per fortuna Per fortuna Per fortuna Le bandanti Si sente Te Di cappello Assolutamente Si Nel 2037 Dovrebbero arrivare I cappelli Quelli di regalo Prima dovete Comprarli I cappelli Regalo Mi hanno detto Che ci mettono Un po' A stamparli Allora Ragazzi Vediamo Immediatamente Ciao a tutti Innanzitutto Benvenuti E' sempre la giugno No No Avevo scritto Innanzitutto Eh Eh Hai fatto casino Oh Onda Che bella Che bella Che bella Che bella Che bella Non chiudete Perché poi non si vede Mamma mia Troppo difficile Come era prima Grazie Cosa stai facendo Allora Bevi acqua Uuu Che bella Team Italia Uuu Che bella Sharder Bella Di chi è? E' la nostra E' il nostro team Bella Quel tren Italia Però che arriva sempre In ritardo Non è che ci porta Tanto bene Sharder Tren Italia Dietro Fs Che cazzo stai Di Il tren Italia Non è Vabbè E' bella Molto bella Grande 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 Loki Fa Cose Per tutti Beh E' bella Anche questa qua Dell'amico Costa E' bella Anche questa qua Devo dire la verità Grande Costa Grande Costa Ok Questa blu Vediamo di Costa E' un po' troppo Sbrizzer Vabbè Noi mettiamola dentro Perché magari Della Toyota Non ce l'ho Allora Olly Amor Allora L'abbiamo tirata giù Sì Perfetto Cosa faccio io Scusa Fai tanti video Fighissimi Loki Tanti Tanti Video Sbrizzer Eh Chi è Zaniboy Adesso di bere Beviamo E sbeviamo Grandi ragazzi Che buona Allora ragazzi C'è la Aston Martin La prossima che dobbiamo comprare Da 5 million E adesso compriamo La Chaparate Bella lì Ragazzi Guardate che mezzo Che di mai Inflorgerà la maggior parte La tecnologia Atomosistica Moderna Da gara Secondo me Collins Chapman E Jim Hall Quindi è Chapmall Chapman Ovviamente Ha fondato la casa britannica Lotus Ma Jim Hall Lo conosci Mai sentito in vita mia Fondatore della Chaparal Chaparate Guardate che bella Anche un pilota di formula 1 E un ingegnere Certo che come ingegnere Credo che non gli abbiano fatto Far tante cose Dopo aver visto sto rotame Però Sul rettore del telaio Due ventole Parti di aspirazione Che produce La importanza Sembra un condizionatore Probabilmente Faceva condizionatori Sto tipo Ok E noi andiamo Assolutamente A comprarla È ovvio Dobbiamo averla La Chaparate È bruttissima E lasceranno Le banane No Va bene Dai Prendi il succo Allora Vuoi utilizzare la macchina Sì Questa però Sharder A livello Livrea Penso A livello Mamma mia Cos'hai fatto Niente Non faccio niente Non fai niente Non c'è più Twitch sul computer Caspita Non fai niente Ok Allora Vuoi utilizzare la lavatrice Eh Sinceramente Allora Non c'ho niente Quindi Lo facciamo A livello Facilozzo Ciao amici amiche di Twitch Benvenuti ragazzi Ragazzi Adesso corre Carla Corre Olli Olli Corri tu amore O comunque Uè Maurizio Che E' FBTS Ciao amico mio Ciao Maurizio Oh Ciao Maurizio Come stai amico mio Non mandarmi cose Assurde Tipo Le tue pizze Buonissime Guarda cosa sto correndo È una lavatrice Moris Probabilmente ce n'hai una uguale Dentro la tua cucina Mio dio ragazzi Che poi tra l'altro Non frena anche nulla Ciao Ciao Maurizio Ciao amico mio Ci siamo sentiti ieri Ma oggi Non ci siamo neanche sentiti Caspita Caspita Mi spiace Non ti ho dato il buongiorno Amico mio Ho fatto una gara Mauri Incredibile Ma incredibile Dir poco A Ciao Zane Amore mio Abbiamo fatto una gara incredibile Maurizio A Azerbaijan Dove Charles Leclerc Ha vinto Ha vinto Gara difficile 4 Sapeticar Penalità Un Un bel Un bel Uè Lucas Ministro Sì signor Allora Esatto Perché Chi ha tolto Un like Sì Sarà due follower Due follower Amico mio Ai che botta Ai che botta Scusa 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 Bugatti Non volevo Ma questo qui è un po' Vorrei le pizze Anch'io Anch'io Allora Ha una potenza Bella potenzosa Però È un po' Un rottamozzo Guarda da dentro Bella Da dentro Dai ragazzi Iscrivetevi al canale Che arriviamo A 580 amici Entro Stasera Dai amici Pizze per tutti Mauri Maurizio Pizze per tutti Grande Kevin Guarda cosa ho comprato Amico mio Ciao Kevin Venite Non ci sono problemi Il problema è venire Amico Il problema è farsi Dos milas chilometros Sì La presa Kevin La lavatrice Magari se vengo Con questa qui Maurizio ci mette un attimo Ciao Lord Grande Lord Grande Lucas Bella Lucas Grande Grande Lucas Grazie che sei passato A salutarci Grande Grande Lucas Ammazza tutto Il Predator Che c'è in giro Rendi le nostre strade E le nostre nottate Serene Da Predator Ammazza di tutti Rocky Giochiamo C'è anche Carla A dopo Maurizio Grazie che sei venuto A salutarci Amico mio Dai 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 Passa dopo Passa dopo A salutarci Grande Grande Maurizio Ciao Buona serata Buon lavoro Amico mio Non è male Come visuale Dall'interno Non è male E tu avresti meno Davvero Com'è Diablo 4 Lo compriamo Ragazzi Buon lavoro Il pass per Il pass per Anos e meio Dos Anos e meio Ci sta Il 5 di maio Il 5 di maio Quello è sicuro Che lo prendo Bravo Kevin Mi piace la tua Comportamentazione Di questa sera Buonasera Buonasera a tutti Grande Guardate Guardate Direi velocemente Senza tutto il titolo I giochi I giochi più belli Diablo 4 Lo mettono nel game pass League of legend Bello Diablo 4 nel pass Sei serio? Persona 3, 4, 5 Ma ragazzi Diablo 4 Su console Ah no Ok League of legend Su console Arc 2 Diablo 4 Plague Tale Va bene Ma Diablo 4 Lo mettono nel pass No Impossibile L.O.L. su console Ciao amici Guardate che bella La nostra Rigoriferino Diablo 4 Credo di sì Ma è un credo O è un forse? Cioè lo mettono nel pass Davvero? Bella ragazzi Gioca gratis 70 euro di gioco Magari Marco Ah No Non è gratis Su console Vabbè lo sto Sto già avviato Deve guidare Ah ah Deve guidare Ok dai Intanto che facciamo andare Si Ti facciamo lo scambio magico Ragazzi 3, 2, 1 No Davide Non è No Mettiti giù Che mi spaghi Sempre il ginocchio Amore 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 Mi dai il mouse Che manda un messaggio Alla Da lì Amore Noi ci sono già qui Belli c'erano Diark 2 E Diablo 4 E forza Motorsport 8 No no Non c'è la zozzeria Stasera Ma soltanto Spaccate un ginocchio Non c'è la zozzeria Non ti rispondo neanche a me Allora Ciardellino è fatto Oh dai che corre carla Bella questa Ciapralat Ciapralat Ragazzi Che bello Che bella macchina Che bella autos Yearly bautos Allora Come dicono gli amici tedeschi E l'amico Kevin Ditemi ragazzi Se si sente troppo rumore Del ventilatore Vabbè Io chiedo Perché se si sente Ce lo dicono Se no È una live Che sentono È assurda Me lo dicono loro Arche 2 Solo 15 secondi Niente hanno fatto vedere Ok Spacca tutto Letteralmente Spacca tutto Ok perfetto No ma perché mi sono spostato Giulia Mi sono spostato verso il ventilatore Allora Sharder Allora io ti dicevo La 919 ibrida Ok È questa che ha provato È grande Giulia No per quello Perché mi sono avvicinato Al ventilatore Non vorrei che poi magari Si sente bordello Capito No 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 È Deve farti la livrea Quindi Vediamo di vedere la macchina Allora È questa La tua Sharder Che hai usato l'altra volta Se finisce bene L'acquisizione Activision Diablo 4 Esce sul pass Eh speriamo Speriamo Se esce Io ce l'ho Ce l'ho gratis Speriamo per bene Sì Sharder Non lo sto vedendo Ragazzi O sta facendo le livree L'amico Sharder E non ci sta Cagando più di tanto Perché vi deve dire Se è questa Quella che c'ha lui È la TS 030 Hybrid del 2012 Sharder È caduto il drag Sto già sognando Diablo 4 Sul Game Pass Sì 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 Anch'io ragazzi Anch'io lo sogno Sul Game Pass Anche Se Sarà un po' difficile Farlo streaming Perché Su Xbox Series X Non è La nuova Ah ma quella Da 3 milioni L'ultima E no Non ce li ho 3 milioni Non ce li ho 3 milioni Amico mio Tu stai dicendo questa Ciao amiche amiche Di Twitch Allora Tu stai dicendo questa No No Così va bene Tu stai dicendo questa Amico mio Quella che c'è in copertina Questa Vero Io non l'ho ancora Non l'ho ancora comprata Amico mio Costa 3 milioni Dobbiamo far male di brutto Ok Eh ragazzo Ha scritto qualcosa Sharderino Eh no Non ce l'ho ancora Io ho questa però Se vuoi La TS 050 Hybrid del 2016 È più o meno Come questa Allora Li faccio provare Questa Carla Perché non mi fa provare La macchina da lì E devo andare E devo andare da qua Non fanno La cazzata Che mettono la coppia Non lo sono Allora Ma no Uh goosbaia Allora ti faccio provare Questa intanto Che Sharder Ci dice qualcosa Perché non lo sto Neanche sentendo Che ha fatto la lobby Intanto Ti faccio provare La Toyota Che non è questa Paese Hai fatto la La cosa Si ok Adesso veniamo No Germania Qui è Germania Ok Giappone Giappone Allora Giapponesi 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 Quante macchine Fanno i giapponesi Io ho la Nissan Ah eccola qua Vi faccio provare Questo dai Nel 2016 Ok dai Loki Muoviti Amico Non abbiamo tempo Da perdere Acquafria Acquafria Mi amor No Sta Non è neanche Spagnolo Andate A vedere Il nuovo Starfield Dovrà uscire Spaccamacelle Speriamo Speri Angelo Verset Perché Mi sembra un po' Che sia una roba Infinita Ho bevuto Stavo anche morendo Eh si Verset Ce lo giochiamo Sul pass Quindi è tanta roba Non vedo l'ora Mille pianeti Da esplorare Wow 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 Speriamo che fanno Un bel lavoro Io ti dico la verità Possono anche ritardare Un anno Basta che fanno Un capolavoro Perché se poi Mi tirano una stronzata La cyberpunk Che era mezzo Bagato E facevi le missioni E ti si inchiodava Possono anche Praticamente Evitare di fare tutto Ti dico la verità Speriamo 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 Che fanno un bel lavoro Perché hanno tempo Da farlo E hanno Un' Un' Aspettativa Da parte di tutti Sia di Dei Dei loro Della loro gente Microsoft Di chi compra Della Xbox Ma anche Della concorrenza Perché Guarda che Verset Se fanno un capolavoro Ciao Nick Grandissimo Se fanno un capolavoro Penso che tanti Compreranno Oh Grande Nick Anche tu sei tornato Grande Io sono dentro Loki è dentro E noi no Pettine verde Di Loki Mi passa il pettine Mio amor Ok Pettinino Verdicchiante Verdino Allora Io ho già visto una cosa Quando gioco con Il mitico Shard La prima volta Fa scemo Poi funziona Ok Mio amor Ciao Bentornato Nick Oh Vasi Facciamo vasi Stasera Tu hai fatto partire Prima che Amor Tanto è È di giro di prova È di giro di prova È di giro Desprovas Desprovas La Toyota Ibrida È come la Porsche Che hai usato L'altro giorno Che ti trovai da dio Mi È di giro di vor È ci ok spostati amore mettiti giusto come devi essere brava così è giusto l'altro giorno facevi cose strane col pedale gli ha dato tre legnate che ha chiamato due giorni e torna la porta no davvero lo sentivano tutti eh si gli hai dato quattro legnate fatte bene queste figure se andavi con la ciabatta là che volevi far termine lo spacciai tra l'altro ragazzi sono andato a vedere tanto per info perché magari insomma la pazzia la si può anche fare una volta nella vita o anche no ma non c'è sempre il fanate che non c'è più non ce ne hanno non ce ne hanno neanche la fanate che è assurdo ragazzi stanno vendendo più volanti ciao Giovanni eeeh Giovanni amico mio quanto tempo dai Giovanni che adesso le squadre sono finite vieni dentro a trovarci amico mio facciamo una bella serata a Warzone con Morris che può anche condividermi il video adesso allora diciamo bravo diciamo che la verità è che ancora va a scatti perché ho la problematica di comprare un computer nuovo per poter fare le live strafichissime però se ce la facciamo andare bene con qualche scattucchio diciamo che si può fare anche una live facendo vedere l'amico Morris se no vabbè le solite live nostre che si sente solo l'audio eh allora io sto andando a vedere carla mi butta avanti ciao giovanni cazzo devo tenere il trabattello qua raga dobbiamo puntellarlo con i fischer con i tasselli perché fischer è fare sponsor e visto che non mi ha pagato per fargli da sponsor lo chiamo i tasselli niente ragazzi no la fan a te che non c'è quindi war zone in settimana grande a mio amore allora in settimana possiamo fare mercoledì glielo chiedo anche a moris glielo chiedo adesso chiedo guarda il mio tempo incredibile come dice Marti glielo chiedi anche tu glielo chiedo io glielo chiedi tu ma giovanni c'è anche c'è anche c'è l'occhi c'è l'occhi grande giovanni ma c'è l'occhi si vede l'occhi non vedo più l'occhi l'occhi mio dio mia moglie poteva morire pazzo pazzo l'occhi ma bisogna dare il freno a mano non hai freno a mano te vai pensa a correre giusto se li tiri di quelle legnate tu allo spallo eh giovanni mia moglie poteva morire l'occhi ah 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 questa era bella eh ma come hai fatto il video in sotto l'hai fatto correndo giusto senza sbagliare mi amore eh non arrivare alla fine e poi frenare tutto devi frenare prima ok a cento freni boom senza tac frena no eh no così vai piano mia moglie poteva morire esatto eh devi frenare più graduale più lenta non c'è bisogno di frenare l'ultimo eh sì ah 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 tu giochi solo driftando grazie pasti mina moglie poteva morire per colpa tua Lokhi si è diventerà hai jobs ah 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 sono bello sex grazie ciao Maurizio è tuo amico grazie hai fatto tu qualcosa ecco che lo seguiamo ricambio sempre i follower ragazzi dai che manca solo un follower amici dai 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 che arriviamo a 580 stasera grazie Maurizio sicuramente starà parlando al suo ristorante con qualcuno alla sua pizzeria con qualcuno e l'ha convinto a farmi a darmi un follower a passare le serate insieme ragazzi grande grande eh lo sapevo Maurizio ti conosco troppo bene amico mio dai trovano un altro dili che se no gli metti 10 euro più sul conto se non si iscrive ascolta ragazzi non vi iscrivete a Marco Drums Games che deve avere un follower più e metto 20 euro più sul conto grazie Maurizio grandissimo amico mio dobbiamo fare Fall Guys Maurizio eh Fall Guys e ci divertiamo ne sto comincendo un altro dai 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 Maurizio ne sto comincendo un altro grande Mauri diglielo diglielo ti metto 50 euro di sovrapprezzo che non ti sei iscritto al canale di Marco Drums Games e vedi che lo fa subito immediatamente eh grande Mauri fortissimo intanto ridendo scherzando Carla sta viaggiando eh amor dai 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 che c'è un altro follower in più fai vedere che sei bravissima qui devi frenare 100 100 vai e non mollare eh devi tenere frenuto frenuto si c'è zanzare c'è zanzare tu che tieni aperto sempre quel robo là ciao amici amiche di Twitch grandissimi io ho già fatto il tempo sto spettando mia moglie poteva morire coppa di Loki ragazzi è stata bellissima ahahahah 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 ok mollare prima e qui già hai da gas ahahahah guarda quel tempo lì l'ho fatto sempre tu ahahahah e infatti non sto dicendo niente ma vedo che è 1,37 1,31 eh che sei morta più più morte ahahahah infatti il lord oggi l'ha detto mia moglie poteva la mia quasi moglie eh Giulii dai che lo cominciamo a sposarti dai che lo cominciamo a sposarti questa è entro la fine dell'anno eh sì secondo me andiamo tutti al matrimonio della Giulia a fine dell'anno eh la Giulia regala una settimana in Toscana a tutti ragazzi sì mangiare bere tutto pagato da lei ahahah ok ok ci sto allora basta che ti sposa Giulia e fai un mutuo per pagarci a tutti il il pernoto io mangio tanto te lo dico qua e tu devi 100 io non potrò venire che peccato lord 100 sì sì 100 quel casar comigo ma il lord non può venire quel casar comigo ah devi dirglielo in portoghese diciamo come si dice in portoghese di sposare quel casar amigo sta scritto che è il casar comigo devi dirlo così Giulia è la Giulia che deve dire no che è il casar comigo conmigo ehi Giovanni ha fatto il pugnetto oh mio dio ehi la zonzana ehi Rosomo sta massacrando tutti sta zonzana ma che cosa va ehi Shader ehi Shader sta correndo ah hai fatto una 25 ah che vuoi fare Shader tre secondi sì ma Shader ti devi sposare in portoghese basta che ti sposare che te ne frega ti devi sposare anche il giapponese ah ragazzi c'è una zanzana che ci sta massacrando eh sì ci sta massacrando allora beh Giovanni ha fatto pettine assolutamente eccolo qui e anche bere ci sta ci sta Giovanni sono d'accordo è Loki Loki sta driftando come un pazzo Loki drifta di solito lui entra dentro ma perché è il driftatore quindi lui pensa a driftare non interessa vincere o perdere le gare è il nostro driftman driftman eh bello eh driftman maurizio 580 grande grande maurizio grazie maurizio pizzeria da sposare tu sei da sposare maurì oh cosa ho fatto quanta gente brava 580 ragazzi 580 festeggiamo no ah 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 e ora si apre e mi ammazza ah 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 gliel'ho detto anche in portoghese ma non mi vuoi sposare vabbè Giulia è un processo è come Carla capire questa questa P questa curva no è un processo molto lungo ah 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 grazie 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 molto gentile dettagli allora ora presta attenzione alla curva vai dai dai gas gira prima gira un pelino prima devi anticipare la curva no alla fine vai gira frena seconda molla vai c'è la c'è la c'è la tutto gas brava stai sulla sinistra eh lo so ci sta massacrando ragazzi c'è una c'è una zanzara che sta facendo qui non devi frenare devi solo mollare parzializza brava parzializza vai adesso che ha detto che ha detto che ha detto dai che ti sposa l'anno prossimo a 100 prena no maurizio rompe sempre ma che è questo ragazzo che ha fatto l'account così ma sei un grande non l'avevo visto maurizio rompe sempre povero ragazzo questo l'avrei talmente stressato che ha fatto l'account che maurizio rompe sempre o ringrazio di cuore ringrazio maurizio rompe sempre 50 frena 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 e poi vai a cedere il coramo frena un po' di più frena un po' di più ti sembra di andare piano ma tu frena ancora un po' e poi accendi la metà molto buono molto buono ti stai avvicinando al tuo 1,26 vabbè 1,28 ragazza hai fatto ecco fatto come quell'altra è come quell'altra dai frena impegno non puoi fare dai dai sharder madonna fa tre giri e dai sharderino comincia comincia la gara vediamo cosa sta facendo sharder va per campi sharder l'hai visto 1,28 l'occhio dov'è l'occhio non sta correndo non c'è più non lo vedo l'occhio l'occhio drift poi buttiamo via la bottiglia vedi da lì non ho più bar già è qualcosa io vado a domani ciao Giovanni grazie che sei passato ci vediamo domani domani alle 9 ti aspetto ok amico mio ciao Giovanni lord che è casato conmigo notte Giovanni ciao Giovanni grazie chiedi anche a Chris se vuole giocare mercoledì e chiedi a Morris ok così se ci mettiamo tutti d'accordo mercoledì sera possiamo farci una warzonata ok amico ciao buonanotte buonanotte grande grande Giovanni ciao 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 Giovanni ecco che parte 5,80 ragazzi grazie a Maurizio rompe sempre ragazzi siete amici di fare la log eh amore ti piace sta macchina poi la rivera su questa eh dai che non devo sbagliare è questa uh l'occhi come vanno velocissimi così cosa ti ho fatto no c'era la cosa ma no ma che cos'è vai 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 corri corri amore non è successo niente Sharder rifalla cioè Sharder mi ha sabotato mio marito c'era l'impostazione Sharder usciamo usciamo c'era l'impostazione del cambio solita con il manuale Sharderino Loki uscite uscite Sharder Loki rifiamola rifiamola Sharder Loki Loki Sharder ok grazie ragazzi allora partite perché c'era il cambio manuale scusate ma il gioco lascia come hai fatto la gara prima quindi a questa impostazione qui la gara di ieri che ho fatto e non si può non si può hai ragione hai ragione amica mia non si può non si può cantare la canzoncina c'è copyright dai ragazza adesso non puoi ma quando si gioca insieme è Maurizio amico mio e sei tu che non ci sei mai amico ve lo devi dire tu quando ci sei lui c'è sempre io ci sono sempre qua amico mio cioè qualsiasi orario di colleghi sono qui sembra che non faccio un cazzo ma effettivamente dopo il lavoro non faccio una sega quindi dimmelo tu dimmelo tu se vuoi sabato quando si mangia l'altro quando sabato sabato se sabato ci sei alle 2 del pomeriggio possiamo portare un gioco Fall Guys o roba del genere sabato ok adesso va ok ah Loki ha preso anche lui quella lì grande Loki la Peugeot ah ah eh sì se già la senti si sta sposando qualcun altro grande amore grande attenta 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 non esagerare bravissima le prime fasi sono quelle decisive perché le gomme sono ho detto a Moriz che adesso me lo apro io il canale e il suo si chiude ah 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 esatto esatto è bravissimo dai 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 che lo apri tu vabbè ma che te ne frega aprilo tu aprilete uno te no te lo apri te così giochiamo insieme facciamo ci divertiamo ridiamo scherziamo dai sarebbe figo e poi corro anche col mitico Morris che gli ho detto se mercoledì c'è insieme a Chris a Giuseppe a Giovanni scusa e al mitico eh ma maurix 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 come si chiama Maurizio lo chiamo rompi maurix e rompi uuuuuh sharder mia moglie poteva morire pazzo mannaggia sharder pazzo maurix pazzo sharder dai cioè lanciate quella bandiera su sharder eh lanciate una bandiera su sharder 3 a 50 non sta tanto bene per questo è fermo adesso oh poverino ebbè qualche roba di scuola qualche fluenzetta c'è le roba di adesso ah mi spiace ecco perché non lo sento l'amico Morris salutamelo salutamelo eh frena tendi sempre a frenare prima e accelerare in curva non frenare durante la curva sempre un po' prima ok Morris ce lo saluti esatto esatto giuli grande tieni giù frena frena tieni frenato adesso vai adesso acceleri che poi non è la regola però si fa così qui molli senza frenare ok anticipa gira gira già gira già ok gira già ok brava devi anticipare un po' le curve perché tende a portarti fuori la macchina capito un abbraccio al campioncino si certo grande molli frena 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 ok vai adesso dagli tutto gas capito mio amor eh 58 cazzo teniato su 5 secondi brava vai così vai mola un po' brava brava sera ci sono io se non torno tardi te ne dici va bene va bene va bene allora domani sera facciamo gran turismo 50 frena quindi se torni presto Maurizio eh non così tanto però se torni presto dai che facciamo una garettina così provi la la Lamborghini che ti ha fatto la livrea a Scharder se ti va poi dopo ci organizziamo per far far dai 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 Mauri dai Mauri ti voglio domani sera presto però ma che ora arrivi perché alle 11 io stacco se il tuo presto la una di notte Maurizio lo annunciamo dai eh se fai pure entriamo io e mori scacchio davvero 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 esatto quando un uomo si mette addosso la propria compagna il compagno non si vuole sposare non lo so effettivamente è una cosa che non so comunque stai beccando l'occhi eh amor quindi non ti prendere dall'entusiasmo vai pianino ok gira ok allora ancora l'online 100 prena l'online ancora di questo gioco non è a posto infatti si vede l'occhi come se sta andando a destra e a sinistra come un un barattolino di fagioli ok 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 dai ma cosa vuoi fare domani sera allora moris vuoi fare fai guys domani sera mauri ci vorresti fare ma tu ci sei proprio dalle 9 a parte che ci sentiamo su whatsapp quello non è un problema però fammi sapere perché se vuoi fare prena 50 prena prena vai molla vai adesso ok brava 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 ma mi devi dire l'orario e a cosa vuoi giocare se vogliamo oh porca loki mia moglie potrà morire pazzo ma dai loki che disastro facciamo un party playstation entriamo tutti va bene va bene dai se vuoi fare con file guys eh infatti giuri se vuoi fare con file guys penso che c'è anche anche sharder e lord lord hai scaricato file guys non so in quanto si può giocare raga online attenta mo non prendere il vai tranquillo io sono tranquillo è te che ti giri ci divertiamo secondo me ok 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 dai facciamo domani sera alle 9 file guys eh preparo preparo le preparo le etichette eh amico mio dai anche loki anche a tutti eh tutti che siete presenti stasera se volete giocare a file guys domani creiamo un party e facciamo tutti i file guys facciamo un bordello è karma cosa hai fatto fino alle 21 non è free to play tutto a pagare oh mi pare in tre ah ok no allora possiamo farla noi Maurizio perché mi diceva il mitico lord che bisogna pagarlo che chi non l'aveva scaricato penso con playstation plus è a pagamento quindi dobbiamo aspettare il 28 vabbè lo facciamo noi dai gli altri vengono dopo il 21 perfetto dai dopo il 21 giochiamo tutti domani sera lo facciamo noi eh amico mio ci divertiamo ci divertiamo c'è anche Morris poi porto qua anche Carla porto qui anche 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 Zane Boys se vuole farci una partita perché file guys è spiritoso eh è un bel giochino spiritoso bravo amor dai eh giuri c'era un frenato scusa parzializza gira 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 trovi la curva 100 gira molla c'era 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 tutto 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 gas 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 comunque gas accederà tutto adesso molla devi 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 ma no un'altra un'altra Loki tranquillo ne facciamo un'altra ne facciamo un'altra adesso poi vediamo se corre Carla o io ma ne facciamo un'altra sicuro frena 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 molla accelera tutto 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 gas 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 ah che bello che bello la Giulia ama Lord grande Lord bella 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 amici oggi siamo venuti da voi ragazzi a vedere le mille mille morti di Giulia è veramente veramente stato forte però ha ragione Lord a tirarti giù la facciamo sempre con le man perché sono più facili da guidare vuoi farne un'altra con questa si va bene va bene dai a Monza magari Nurburgring vuoi? eh? un giro a Nurburgring eh? lo vuoi farti Monza? non ho fatto cento volte provano un altro magari ti becchi un'altra pista che ti piace di brutto fai il sax al ring facciamo la Red Bull come hai detto? eh ma non è che ti devo dire tutte le volte poi te lo dico lo piccazzo che te lo dico facciamo quella quella che abbiamo fatto oggi Sharder su Formula 1 come si chiama? quella della Red Bull c'è le mani che mi fanno male pensa che ho fatto un'ora io no amor no amor eh perché fanno male le mie mani mi fanno male perché come cazzo lo tieni sto volante? devi tenere la pena pena non mica il Red Bull Racing bravo bravo l'occhi ci sta c'è mi incastro e perché ti incastri? tenere in altro posto eh ma è perché sono quelli che mi fanno oh tranquilla quando ci siete ragazzi no problema adesso che ho capito come si fa ma non so se si fa così quindi se poi funziona vuol dire che si fa così se non funziona non si fa così si effettivamente penso che Sharder adesso tra pochissimo arriva e tu sei ancora dietro a correre però non c'è problema adesso mas go on cerca di fare un giro buono finale adesso te lo dico no dai pieno qua frena oh bravo l'occhi bravissimo la tutta dell'accademia ci sta adesso puoi Sharder fare questa macchina ma tu ce l'hai l'occhi frena c'è scusa parzializza ce l'hai la Toyota questa qua che sto usando io è un milione perché se abbiamo questa Toyota ragazzi è fatta oppure ti fai 100 ti fai un paio di Sardegna l'occhi e te la compri fatti un paio di Sardegna e ti compri questa qua adesso ti dico che modello ti compri così Sharder ci fa la livrea di questa perché è vero che quella nuova da 3 milioni viaggia di più è anche più bella però sono 3 milioni insomma a parte che io me la compro non è bravissima non è problema esatto bravo l'occhi vero esatto esatto no problema ciao amici amiche di Twitch benvenuti benvenuti ragazze iscrivetevi al canale se volete siamo riusciti a arrivare alle 5.80 grazie all'amico Maurizio rompe sempre Maurizio rompe sempre incredibile scusa amica brava hai visto? a correre bene brava dammi un basin dammi un basin mi amor patata brava seconda bravissima spugni ma c'è corri che presti attenzione per volte sembra che tu corri e poi dopo pensi ai cazzi tuoi no così come quando vai in macchina e non va bene 26 minuti eh sì 26 minuti 26 minuti bella lì con la tua moc pensa di averla fatta poi carla è per te penso di averla la faccio ok allora prepara l'altra oh Shader 1.26 qualcosa allora io ti dico la verità Shader 7.14 facendo due due grandi giù due Sardegna la posso comprare ok però anche l'amico grandi l'amico poi diventa un problema un po' per tutti capito comprarla quindi se noi la facciamo su questa è meglio ok dai vieni non c'è capace più di salire è vicina allora la T guarda l'occhi ti dico la macchina intanto che Shader prepara la lobby è la Toyota TS050 Hybrid del 2016 che è tanta roba questa con l'estro e la bravura di Shader chissà cosa salta fuori qui di lamiera da fare cose ce n'è tanta c'è tanta lamiera dritta qua non è vedi è tutta incasinata effettivamente però secondo me Shader fa una cosa pazzesca qua beh non so se è proprio un divertimento mi sa che non sarà fatto esatto Carlo stai dicendo Shader si diverte non lo so però basta che ci sia scritto Marco Drums Games Bragali e Shader il tempo chiaramente se vuoi far prima che l'accademia alle nostre fai con comodo fai come come ti senti eh raga anche perché io se riesce a fare di questa è meglio perché con i 5 milioni vorrei comprare questa macchina ragazzi la stone martin che mi manca che mi manca dopo ci saranno allora questa qui andrà in quinta questa qui domani la la cambieranno ok hai fatto la lobby grandissimo tu parlavi ah sai che cosa poi Shader anche quella che c'era l'altra volta era da fare la livrera vabbè troppe livrera diciamo farne una alla volta se no qui ragazzi 1,26 bravissima mio amore no sei stata brava davvero è arrivato giusto in tempo che lui è arrivato anche a lui e sono riuscita ok ragazzi allora cerchiamo la lobby e andiamo a correre venga chi è prima sì beh non dico è un portoghese un portoghese venga qui non si può sentire la musica no un vaccino solo appena appena in modo manuel assolutamente no le mie live sono senza musica perché non si può non si può devi usare solo le musiche loro c'è un sito apposta ryan anche oggi le nuove auto e tornano a 30 milioni domani cosa uscirà grande manuel grande ryan buonasera amico mio sei pronta a andare al sax ring no che schifo cos'è che l'è ciao ragazzi benvenuti benvenuti sta correndo carla oggi abbiamo fatto delle gare a pazzesca una gara pazzesca ma io questa non la so al formula e beh provala amore ciao ryan grandissimo provala ti dico io ti spiego io come farla buonasera buonasera ryan sta correndo carla io oggi ho fatto quasi 80 90 giri a formula 1 e ti dico amico mio che sono mezzo distrutto davvero mezzo distrutto dopo mi sono fatta una bella sardegna allora tutta piena allora scusate ragazzi che devo dire a carla come si fa qui devi frenare tutto si fa seconda prima perché è un tornante a destra frena 100 vabbè non c'è problema fa 100 gira tutto bravo mio amor quindi stare attenta perché è bella bastarda qui attenzione adesso vai piena ok c'è anche il sharder davanti ok adesso è piena e devi frenare tipo in seconda qua frena bravissima molla ok gas attenzione gas bravissima adesso c'è una curva a destra adesso qui poi una sinistra che devi fare in terza molla un po molla molla un po molla no 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 vedo che ce l'hai sull'acceleratore mio amor adesso è da terza anche questa quindi attenzione ok dosa dosa vai vai adesso sei in seconda sei lentissima accelera tutto fai tutto non è malvagia adesso è da quarta quindi sei sulla sinistra frena molla accelera bravissima accelera no 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 di box e provalo mi amor se devi andare in un posto nuovo cosa fai è qui è finita non è tanto difficile questa pista è finita la pista basta hai già fatto un giro sinistra frena frena gira vai c'è la tutta questa pista c'è anche questa missione con lo scroscione mi è piaciuto parecchio si si è vero è vero ah ragazzi come si sveglia allora adesso fai attenzione che devi frenare tutto frena tutto frena 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 ok frena tutto frena vai vabbè forse un po' troppo eh beh amore devi vedere anche te dai accelera adesso eh eh cioè eh amore fai come devi fare se vuoi te non ti dico niente te la fai se no ok e ragazzi adesso vi faccio vedere il replay il replay ha funzionato esatto il replay della patente S che ho preso oggi avete capito bene Ryan e Manuel amici miei patente S fatta stamattina fatta stamattina ho svegliato Lord ah 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 qui devi andare in terza amore mia guarda Whatsapp no ma no Mauri se mi hai mandato la pizza vorrà mangiare di nuovo Mauri ciao amici e amiche allora vorrà mangiare di nuovo ma no come la chat bellissimo la condivido subito ho la chat è Giulia dice Maurizio che è la chat bloccata per i nuovi iscritti ma ma come si fa a bloccare la chat scusami non credo modifica informazioni dello streamer aspetta la mettiamo domani perfetto io sto vedendo le impostazioni Maurizio ma non ho un'impostazione che mi dice blocca ho la chat riservata ai follower e infatti ma la chat dovevano scrivere tutto non hanno cambiato no no non sono cambiato mio amore non dire stronzate allora chat riservata a follower vuol dire che posso scrivere solo i follower è quello che sarebbe il resto non è stato cambiato ciao amici e amiche allora ricordati sempre quella dopo Carla questa qua da terza no no visto che devono essere verificati prima di scrivere a te molti non lo fanno eh ma non ah ok aspetta allora magari c'è scritto da qualche parte è perché c'è un sacco di impostazioni sembra di no ma ragazzi c'è davvero un sacco di impostazioni abbiamo se non vuoi correre non devi lamentarti basta che dici non corro più e corro io ok ok basta che basta che stai tranquilla amore Ryan cosa ha scritto non ho visto Ryan scusa allora io ho la verifica indirizzo mail disabilitata amico ah le linee per terra ah sì hai ragione hai ragione no ma sei già stancata conosco mia moglie quando mi dice così è perché sei già rotta ho fatto scaricare e ti cominci a fare male le mani perché io prendo un volante così col pollice ho fatto scaricare il triccio ad un amico qui in pizzeria che non sapeva l'istenza di rippage però non poteva scrivere allora è successa una cosa del genere anche a Carla ti ricordiamo che non ti faceva scrivere com'è che hai fatto poi chiudi l'applicazione allora Carla aveva risolto chiudendo l'applicazione e riaprendola più volte devi chiudere l'applicazione e uscire dalla live esci dalla live chiudi l'applicazione si si ma ci crediamo che non riescono a scrivere amico mio il problema è che non ho ti ho mandato anche una foto praticamente io l'unica cosa che posso no questo qua non mi interessa no 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 ho sbagliato sono uscito l'unica cosa che ho è quella lì che ti ho mandato che è che posso fare che possono scrivere solo gli account verificati e invece io ce l'ho che posso scrivere tutti infatti l'altra volta era entrato un troll era uscito che doveva forse perché non ha fatto quel codice quando vuoi fare Carlo fammi fare un giro a me no ok allora cambiamo i ruoli ok anche io ti amo amore sei un po' sul cazzo quando fai così mi fai venire no mi fai venire un 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 brutto male però senza codice non puoi entrare su twitch ah dici che era per quello si vengono a farmi quello un pochino no mi fai venire brividi da badrividi mi fai dar su cazzo si potevano comunque guardare e iscriversi al canale però da marco non si poteva scrivere non lo so amico mio sinceramente ci sono di quelle cose di di twitch che ancora non capisco io ti ho fatto vedere se guardi il whatsapp ho visto che l'hai visto che le impostazioni sono che tutti possono scrivere dobbiamo mettere un po' di nastro nuovo allora faccio un giro sharder giusto per guarda così mi impari seconda acceleri avvero non puoi far sempre il gran 3 tutta la vita devi capare anche altre piste ciao perché uno oggi i nuovi iscritti sul canale scrivevano e non lo so ma deve essere un'impostazione Giulia un'impostazione forse del suo e non so è una cosa che devo chiedere a qualcuno che sa perché a sto punto se quelle volte Dragon 3 è una pista di fantasia Red Bull esiste davvero e ci corrono anche in Formula 1 esatto Dragon 3 è bellissima è stupenda e oggi Ryan mi ha fatto 1 e 26 1 e 26 e la Bragale ha fatto 1 e 26 bravo amor bravo mio amor aspetta cosa dice quali infezioni di Dragon 3 quella normale o quella con l'altro normale normal very normal people no non è quella con la montagna 11 amico mio 11 mauri vediamo se riusciamo a fare un giro buono madonna ok ok dai se riesci ad arrivare per le 11 11 e 20 sono ancora in piedi al massimo fai una cosa amico mio mi mandi un messaggio su whatsapp che io oggi sono veramente muerto non ho il tuo fisico amico mio che stai su fino alle 3 di notte e poi alle 6 di mattina sei in piedi non ce la faccio ho fatto un tempone eh Loki grande Loki eh sì mauri l'abitudine è vero è vero cacchio io non ce la faccio dai ci sentiamo più tardi grazie amico mio ci vediamo dopo ciao ciao mari 1 e 18 grande Loki ha fatto fare quello 1 e 16 amico mio oggi c'è un sacco di aerei ragazzi un sacco di gente che va a finito questo possiamo partire se volete ragazzi eh ciao amici di Twitch come state amici e amiche cacchio al limite ma sono andato a vedere adesso le impostazioni come impostazioni sono sembrano abbastanza a posto Giulie per me si può partire ragazzi meno di 1 e 18 non scendo con questa macchina ci sono missioni con il meteo variabile oltre al Red Bull Ring in questo periodo sto grindando tra gli leggendari oh spesso sono speso l'avanzamento non saprei dirtelo ah io ho solo le medie però raga ecco perché ho le gomme merdoschi con questa macchina qua non c'ho come la come la Porsche ok se volete si può partire ragazzi vediamo un attimo i ragazzi allora Ryan sinceramente non lo so ho preso la ciaparatta si Ryan bellissima è stata veramente una cosa grandiosa la ciaparatta allora lobina lobina dai forza 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 scusa Shard perché si sono massacrati vi state già massacrando ragazzi oh qui si sta parlando di Toyota via cacchio la lavatrice è bella la lavatricina eh ah 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 va fino alla lavatrice è bella Ti ho visto mia mamma? No no Sono giù il papà No mia mamma Ma come fanno ad andare così veloci raga? E' vero è vero Madonna e chissà che l'ingegnere lì che cosa ha combinato raga Ma come fanno ad andare così veloce Sharder e Loki Che macchina hanno? C'è guarda che roba Sul dritto eh Io non lo so Buonanotte lord Grazie di tutto amico mio Dai ci vediamo domani sera Domani sera c'è la mitica live con Fileguys Davvero? Perché era funzionante? Come tipo di sistema? Di ventole? Ah ok Giulia Tanto noi facciamo questa Faccio vedere il video E il video della patente mia E poi andiamo a letto Non so ragazzi Hanno macchine che corrono Veramente forte Non riesco a stare lì dietro raga Proprio l'accelerazione Guardate qua che roba Guardate l'accelerazione E' veramente dura Competere solo nelle curve Anche perchè loro Frenano forte Cazzo Ma vai a quel paese Cretina di una macchina Ma dai Ero lì Sta scema Si gira Non si è mai girata lì Mai mollare Mai mollare Finiamo la gara ragazzi Anche se la vedo Davvero davvero difficile Caspita Non sono neanche qui Sono già alla curva dopo Sono sul dritto Madonna Stanno facendo la curva Eccoli là in fondo Veramente Non si prendono le macchine Uguali Se no è Secondo me la Porsche Andava meglio Davvero male Questa Toyota Ciao amici e amiche di Twitch Grandissimi E amici di Gran Turismo 7 Iscrivetevi al canale di Marco Dranz Dai amici Facciamo Gran Turismo E anche Formula 1 A fine mese Ci sarà Formula 1 2022 Ragazzi e ragazze In Day 1 Edition In più domani sera Facciamo Five Guys Con l'amico Morris L'amico Maurizio E con chi vuole giocare con noi Senza problemi Facciamo Una bella Live Tanto per cambiare gioco Perché mi piace ogni tanto Cambiare gioco Poi ci sarà quella di Warzone E Con l'amico Willis Faremo anche quella di Fortnite E un po' tutto A me piace giocare un po' tutti i giochi Raga Avevo fatto anche giovedì scorso Quella di Spielforce 3 Guardatevi andare a vedere Anche nello storico Delle mie live Così vedete Anche altri giochi Amici miei Oggi fa un caldo Becco Alla fine di questo Vi faccio vedere I replay Della Eh li sto prendendo Un po' alla volta Ma Allora L'errore che ho fatto Che la macchina Ha fatto Che non frena Vi faccio vedere Il replay Della patente Ad oro Dell'ultima Della S Che è trofeo E adesso Mi manca solo Di fare 50 gare online E i Filmati E gli escapes Le foto E poi ho platinato Gran Turismo 7 Quindi Questo è stato Un platino Veramente Veramente bello Ma non smetterò Comunque di giocare Perché ci sono Le gare Fantastiche online E anche E anche Tutta la parte Proprio Offline Di macchine Adesso le ho comprate Quasi tutti Quindi Amici miei Dopo si farmerà Per avere Crediti a manetta Quando usciranno Le gare nuove Ciao Giulia Ah si signor Carla è già andata Perché è stanca Penso che ora Che finiamo Tutto Starà già Anche dormendo Cazzo Sta pista qua Con sta macchina Non mi ci trovo Mi danno via Vedete che roba Mi stanno dando via Dai manca Un giro Ragazzi Cazzo Lo fanno 1,16 E io Con il massimo Che sono riuscito A fare 1,18 Due giri Da 1,18 Tanta roba Raga E proprio Penso che sia A sto punto Parte oltre la bravura Che Loki Chi e Sharder Sono molto bravi Ma anche un discorso Di macchina Forse ho preso Una Toyota Baracca Un po' Un baracchino Che invece di mettere I freni Carboceramici Mi ha messo I freni Con la carbonella Stavano facendo Il barbecue Avevano finito I freni Carboceramici E hanno usato Il carbone Della carbonella Della barbecue Per farmi i freni Perché sta macchina Veramente frena Brutto 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 La prima Probabilmente Se ce l'ho preso Ah Ma raga Ma io l'ho preso Non c'ha Non c'ha niente Ecco La Toyota Baracca Grande Raya Questa mi è piaciuta È vero È vero Effettivamente Ci sta Come tipo di cosa Eee Drums Anche lui Anche lui Finisce la gara Yes Ah ah Dai Bella gara Loki Grandi Grandi Ragazzi Allora io vi chiedo Una cortesia di stare A vedere la live Che andiamo Bella lì Avevo la macchina Comunque senza potenziamenti Adesso mi sono ricordato Quindi Sharder ti dirò Bella Bella gara Bella gara Anzi sapete cosa Ma che cazzo Fai Ehm Salviamo replay Ok Allora Loki Io ti ho mandato Il mio numero di cellulare Su TikTok Guardalo Perché ti devo mettere dentro Nella squadra corse Del gruppo TikTok Che tutti i nostri amici Che poi Correranno insieme a noi Entreranno nella squadra Nella squadra TikTok Ok Sì anch'io Anche io ero standard Ma con le gomme Merdoschi Quindi Un po' Fatica ho fatto Comunque bravo Bravo Loki E bravo Che colori Mi avevi detto Carla E devi aspettare un attimo Perché te lo dico dopo Amico mio Perché Ehm Bravo bravo Loki Perché Ehm Dove sono i miei Perché I miei oggetti Perché ti devo dire Qual è che ce l'ho potenziata Allora Eccola qua ragazzi Visual Visual Gustiamoci La patente Oro Di Marco Drums Games Ce lo gustiamo ragazzi Guardate Guardate Stamattina Ho fatto un capolavoro Vi ricordate che abbiamo provato 50 volte in live insieme Stamattina mi sono messo dietro Alla sesta ottava volta Arancione e viola per Carla Ma ti dico la macchina Amico mio Guardate che figata Ma da qui si vede benissimo La parte La parte Non bagnata La parte asciutta Ma ragazzi Vi posso assicurare Che dentro Non è così Ehm Comunque si viaggia forte Si viaggia forte Con questa Questa macchina La vendevano Due settimane fa 18 milioni Quindi Prima o poi Me la dovrò comprare Devo farmare un po' E devo mettere via Soldini Per 18 milioni Guardate il giro Di Marco Drums Che ha fatto la patente Ragazzi Mega patente Questa è stata Veramente tosta Nooo Giulia Amica mia Grande Grazie Giulia No Sei troppo Mitica Giulia Ti devo mandare Prima o poi Una mega maglietta Amica mia Aspetta che ti dedico Un bacio Guarda Ti ho riscattato Un bacio di Marco Drums Mua E un bacio di Bragali Ma che Bragali Non c'è Te lo do io Ecco guarda Un bacio a tutti Ti voglio bene Giulia Grazie Grazie amica mia Che bello Che bello Oh che mi ha reso felice Guarda il sorriso Quando mi arrivano Gli abbonamenti Ragazzi Sono felice Adesso il bacino Era per la Giulia Che mi ha fatto L'abbonamento Per Morris Ah per Maurizio Grandissimo Dopo glielo Dopo glielo dico Così la prossima volta Che entra Maurizio In live Ti ringrazio Grazie Giulia Gentilissima Come sempre Amica mia Mauri La Giulia Ti ha regalato Un abbonamento Al mio canale Grande Grande Maurizio Grandissima Giulia Grande Giulia E lord Gli ho mandato Un messaggio Al mitico Guardate ragazzi Questa Questa pista Questa macchina Questa patente È stata veramente Veramente tosta Vi dico la verità Che quando ero qui Non ci credevo Non ci credevo Ve la faccio rivedere Tra l'argomento Il tuo telefono Su whatsapp Ti scrivo Ok ok Grande grande Allora vi faccio vedere L'ultimo giro E lo faccio vedere Da dentro Ok ragazzi Questo è Se volete anche voi Avere uno spunto Maurizio passa a salutare Allora Se volete anche voi Avere lo spunto Ok Giulia Ok Giulia Ok Giulia Passerà Maurizio A salutarti Ma gli dico Che sei già andato A nanna Oh Loki Grande Loki Grande Loki Aspetta Aspetta Guardate ragazzi Grandissimo Maurizio Grandissimo Maurizio Grandissimo Maurizio Grandissimo Maurizio Grandissimo Giulia Grazie Giulia Lord Maurizio Grazie a tutti ragazzi Siete veramente Siete veramente la mia fan base Amici 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 miei Dai supportate il canale di Marco Dai supportate il canale di Marco Drums Guardate che giro ragazzi 20 e 30 domani entra va bene ragazzi Dai domani sera a 20 e 40 21 ci colleghiamo Qui ragazzi Pensavo davvero Che non era Che non era Vado sul full Che ci sei Ok Vado sul full Che ci sei Ok Vado sul full Che ci sei Vabbè non ho capito Però va bene Vai vai sul full Ve la faccio vedere L'ultima volta Dal musetto Sto anche zitto Così vi potete gustare La patente oro E anche un bel tempo Tra l'altro 1.26 qualcosa Così Se avete bisogno di Buonanotte 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 Notte a tutti ragazzi Notte a tutti Faccio vedere solo questo E vado letto anch'io Buonanotte ragazzi Buonanotte amici Se non siete iscritti Iscrivetevi al mio canale Grandissimi Vi ringrazio E se volete darmi un abbonamento Vi ringrazio tantissimo Che andiamo a comprare Il fanatech Appena disponibile Ancora per me è presto Ah eh si Maurizio È vero È vero Vabbè Buon lavoro a te Amico mio Dai Se riusciamo a sentirci Fra dieci minuti Maurizio Così ci parliamo un attimo O se no ci scambiamo I whatsapp Amico mio E ci sentiamo domani Magari a mezzogiorno Fammi Dimmi tu Grande Grande Giulia Buonanotte amica mia Vai vai Che sei piena di sonno Ah Morris Grande Maurizio Stream Elements Grazie a Stream Elements Sempre A lavorare per noi Stream Elements Sound Alert Anche ringrazio Ringrazio anche Amazon E Twitch ragazzi Che ci permette di stare Insieme la sera E anche il Drago Il Drago arrabbiato Il Drago è arrabbiato oggi È un po' arrabbiato Chiamami Come chiudi Va bene va bene Maurizio Grazie mille Notte a tutti Notte a tutti Notte a tutti chat Siete meravigliosi Stiamo quasi finendo il giro Alla fine del giro Io vi saluto E vi ringrazio È sempre bello passare di qui Grande Maurizio Cuore anche a me Ti voglio bene amico mio Ciao ciao È vero è vero È stato proprio Una bella cosa Che ci siamo conosciuti Quella sera Che sei passato per caso E hai visto Marco Drums Games Grande 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 Ragazzi Attenzione Qui ragazzi Pensavo di aver fatto La cavolata Qui guarda Qui ho frenato Qui Qui pensavo di aver perso Qui pensavo Di aver bruciato tutta E secondo me Se non facevo questo errore Ragazzi Ci andiamo ancora col tempo Io ve lo dico Magari ci possiamo riprovare Qualche sera Tanto per Ma effettivamente Questa pista L'ho un po' odiata E con questo Vi saluto Anch'io ragazzi E ragazzi Buonanotte Amici Buonanotte amici Di Gran Turismo Buonanotte amici Di Marco Drums Games Channel Buonanotte amici Di Twitch Ci vediamo Domani sera Domani sera Ore 21 circa 21 dai Alle 21 ci vediamo Alle 9 Con File Guys L'amico Morris Marco Drums E tutti voi Che volete giocare con noi Poi ci organizziamo E facciamo qualcosa Di figo File Guys Ciao Versed Grazie mille amico mio Che sei entrato anche stasera Sei un grande Sei un grande amico mio Dai Ciao Giulie Ciao Lord Ciao Tutti quelli che sono rimasti Shard Loki Tutti 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 Fatemi vedere perché c'è la memoria De merda Versed Morris Giulia Vediamo Shard Loki Manuel Beh adesso non so chi ci sono Chi non ci sono Però Poi era arrivato Loki Poi era arrivato Arrivati tutti ragazzi Sharderino Se hai dimenticato qualcuno Scusatemi ma vi saluto Veramente veramente tutti Che siete ormai diventati Grandissimi Siamo diventati una gran famiglia 580 follower Siamo riusciti Ad arrivare oggi E ci vediamo domani sera E ci divertiamo insieme Ciao amici Buonasera Buonanotte 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.